pct facile il primo podcast per avvocati tecnologici ciao stai ascoltando pct facile il primo podcast per avvocati tecnologici io sono francesco posati e con marco pernacchini ti do il benvenuto alla nuova puntata continua lo speciale dedicato al forum pia 2016 oggi ascolteremo l'intervento di michele gorga che ci illustra il percorso evolutivo del processo telematico dalle sue origini fino arrivare alle sfide future lo speed la nuova identità digitale e la formazione di magistrati avvocati e personale amministrativo ma prima di lasciarti alle sue parole ringrazio il forum pia che ha condiviso i contenuti sul portale forum pia.it buon ascolto noi ci sentiamo domenica prossima e ricorda che viviamo il futuro digitale ciao quando fu concepito il processo telematico nell'ondano 99 i giuristi e si accincevano a quella metodica erano considerati dei visionari sembrava impossibile avere un trattamento telematico del processo oggi noi possiamo dire che il processo civile telematico è la più grande esperienza di trasformazione del lavoro della pubblica amministrazione in cui sono coinvolti utenti privati è la più grande esperienza di telelavoro che è realizzata su piano nazionale è un risultato guardate inimmaginabile ma al quale non diamo nessun peso e nessuna importanza perché abbiamo questa caratteristica dimentichiamo spesso da dove siamo partiti e non riusciamo ad apprezzare le mete che raggiungiamo io ricordo con piacere sempre le lezioni del professore Renato Borroso che è stato l'antesignano uno tra coloro i quali ha creduto sin dall'inizio al processo civile telematico colui il quale ha messo su il ced della Cassazione insieme ad altri il quale faceva sempre questa distinzione tra informatica gestionale e informatica decisionale un processo in cui la decisione è data in automatico che diciamo una delle paure del cittadino in quanto tale perché essere giudicati da un computer è qualcosa che spaventa il professore però ci faceva questa osservazione che io ribalto a voi ma che cos'è un programma informatico se non il pensiero pensato dell'ideatore del programma e quindi se il pensiero pensato dell'ideatore del programma la decisione automatizzata non è del computer ma è sempre dell'uomo e noi arriveremo anche a un processo per reati magari contravenzionali quelli di minore entità e di minore importanza dove l'applicazione del codice e delle norme può essere considerata automatica anche a un tipo di processo in cui la decisione è data dal computer ci arriveremo per adesso però vediamo qual è l'origine dell'attuale struttura del processo civile telematico perché gli ideatori concepirono un inserimento dell'informatica della telematica nel processo qual era la preoccupazione che essi avevano erano quelle sentenze che i giuristi conoscono bene della cosiddetta decisione nella procedura il processo è la più grande vicenda che tocca la persona perché tocca la sua libertà e il diritto sostanziale è la regola fondamentale per della nostra convivenza civile quando un diritto è annullato perché vi è un vizio di procedura si realizza il massimo dell'ingiustizia e allora se questa l'origine del processo civile telematico gli ideatori volevano tramite l'uso dell'informatica della telematica rompere tutti i tempi morti della procedura del processo per arrivare a un processo giusto un processo orale in cui l'applicazione del diritto sostanziale diventa il momento culminante del processo l'informatica guardate non è un totem rispetto al quale noi dobbiamo affascinarci perché abbiamo realizzato un'innovazione perché nessuna innovazione regge rispetto alla persona e al valore della persona umana in quanto tale e nel processo soprattutto il valore della persona è esaltato al massimo e allora l'informatica tramite le notifiche telematiche tramite la firma digitale tramite il deposito telematico degli atti ha solo questo scopo di abbattere i tempi morti per avere una giustizia più rapida più giusta più immediata ed esaltare la oralità del processo civile penale in questi giorni penalisti vi ricordo che sono in sciopero in assenzione perché sono contro il processo a distanza cioè il processo fatto in videoconferenza e con l'applicazione di alcuni strumenti informatizzati anche nell'ambito del settore penale stai ascoltando pct facile il primo podcast per avvocati tecnologici allora questa struttura è quella che è stata concepita dal nostro ministero della giustizia e una architettura pensata all'origine come in un sistema intranet chi ha seguito sin dagli inizi gli albori del processo civile telematico sa benissimo che c'era tutta una condizione per essere certificati nel processo c'era la pec specifica del processo telematico cioè si poteva accedere al processo telematico solo tramite degli strumenti dedicati poi ad un certo punto quando è stata introdotta la firma elettronica ed è intervenuta la normativa europea in ordine alla liberalizzazione del mercato degli strumenti e delle dei programmi informatici nonché di tutti i dispositivi nell'ambito dell'informatica si è pensato al sistema internet e con l'accesso tramite pec che attualmente è per quello che vi dirò da qui a breve da considerare la preistoria del processo civile telematico la descrizione che abbiamo visto adesso è quello che è nello stato attuale con tutte le criticità che il processo porta dal punto di vista normativo e dal punto di vista anche della cultura dell'approccio al processo e non potrebbe essere diversamente perché il codice e i funzionari immutati dal 1999 sono stati educati ad una cultura del analogico non del telematico quindi noi pensiamo ancora al fascicolo alla carta abbiamo un approccio analogico non telematico verso il processo la novità è che la pubblica amministrazione oggi sta realizzando un grande progetto che è quello di speed che cosa è speed speed è l'identità digitale e la trasformazione digitale di tutti i dati del cittadino di tutti i dati anagrafici ci sono i cosiddetti attributi vedete la pec è uno degli attributi di speed la firma digitale è una degli attributi di speed la possibilità di poter ascedere a un servizio della pubblica amministrazione in cui vi è in automatico il riconoscimento del soggetto che accede e che può attraverso un numero ad esempio quello del ruolo del fascicolo fare depositi direttamente attraverso senza la necessità di avere la trasmissione della pec con tutti i suoi limiti di capienza che oggi ha è una tecnologia e un applicativo rivoluzionario nel senso che il processo civile telematico da qui a breve potrebbe avere un'accelerazione impressionante dal punto di vista della identificazione dei soggetti i quali con gli attributi potrebbero inserire nel dispositivo di speed la propria iscrizione all'ordine e l'ordine di appartenenza i certificati di firma digitale l'indirizzo pec la loro residenza tutte le informazioni che attengono alla persona e al professionista per depositare direttamente così come avviene per molte pubbliche amministrazioni che stanno mettendo su i loro servizi in questi in questo momento per l'attività di speed l'accesso immediato nel processo questo però che cosa comporta e che cosa implica innanzitutto vi sono tre problemi conseguenti alla modifica dell'architettura di accesso al processo civile telematico il primo è che bisogna svolgere un'attività di formazione di cambio di cultura dell'approccio ai servizi della pubblica amministrazione il soggetto dell'attività umana e l'uomo in quanto tale con tutti i suoi valori e con tutte le sue criticità quindi è la persona che va formata all'utilizzo degli nuovi strumenti e non sono diciamo in qualche modo i nuovi strumenti che devono modificare il pensiero o la ragione di essere dell'uomo il secondo problema è che occorre un coordinamento a livello di pubblica amministrazione di un'autorità che sappia organizzare rendere organici tutte le attività che stanno si stanno svolgendo nella pubblica amministrazione io per quanto attiene alla formazione vorrei parlare di quel progetto di formazione messo su dall'agenzia per l'innovazione le tecnologie dell'innovazione nel 2011 e cioè un progetto di formazione comune tra avvocati magistrati cancellieri che oggi nel 2016 con l'acli la possibilità della ricerca delle sentenze in tutte le lingue sul motore europeo è stata attuata uno dei problemi culturali del nostro paese che impediscono effettivamente il cambiamento di cui il processo telematica e la giustizia è soltanto una porzione è questa differenza di chiusure culturali che abbiamo se noi parliamo di formazione ad esempio il ministero resta geloso nelle sue attività formative che si riduce nei solo applicativi dei programmi ministeriali i magistrati nella loro scuola superiore della magistratura ritengono che sia un compito della magistratura i consigli degli ordini ritengono che per gli avvocati sia un loro compito però se andiamo a guardare la sostanza non più di 5 eventi all'anno la scuola superiore della magistratura programma nel settore dell'innovazione i consigli degli ordini molto di meno gli impiegati i dipendenti amministrativi abbiamo al di là della formazione specifica sugli applicativi nessun cambio di cultura nella gestione amministrativa dal passaggio dall'analogico credo che questi siano veri problemi che impediscono alla nostra società di avere un cambio davvero importante ed efficace vi ringrazio segui pct facile su avvocatotecnologico.it su tumblr e su telegram contatta l'autore francesco posati per idee suggerimenti richieste su about.me slash f posati o scrivi a me chiocciola francesco posati.it sostieni il podcast tramite paypal.me slash f posati